Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Roma. Per un incidente la statale 73 Senese Aretina è provvisionalmente chiusa in entrambe le direzioni e al chilometro 115 nel comune di Arezzo all'altezza del bivio per la località Scopetone. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze nei viali Piombino ed Etruria fino al 23 marzo per lavori e divieti di sosta e restringimenti di carreggiata a tratti. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!